Grazie Presidente, onorevoli colleghi, la Lega ha sempre sostenuto che per contrastare la pandemia, stato di emergenza sì, stato di emergenza no, quello che davvero conta, la vera sostanza, è sapere se il Governo è pronto ad affrontare questa situazione sì o no. Si è preparato il Governo? Noi l'abbiamo chiesto con un'interrogazione il 7 di luglio, era abbastanza scontato che ci saremmo potuti trovare di fronte ad una seconda ondata, ad una recrudescenza del virus. E quindi dobbiamo capire se il Governo è pronto. Sullo stato di emergenza mi perdoni, senza entrare in polemica, i colleghi del centrodestra l'hanno abbondantemente messo in evidenza, però ultimamente una riflessione, uno spunto di riflessione, ma non solo per lei, per il Governo, ma per tutto il Parlamento. L'intervento che ha fatto il Costituzionista Sabino Cassese, il quale ha detto che emergenza non c'è, siamo in una situazione largamente prevista, come le dicevo prima, 7 luglio l'interrogazione della Lega, si sapeva che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi, la vita è ricominciata, il virus circola, si sapeva che ci sarebbe stato questo. Lo stato di emergenza serve soltanto perché all'interno della macchina statale c'è un'impotenza nell'affrontare i problemi ordinari, ossia sostanzialmente per sveltire le procedure, dice Sabino Cassese, che non si ha la capacità di sveltire in modo ordinario. Questo come riflessione, proprio per far capire che di fatto non è tanto lo stato di emergenza, sì o no, è più uno strumento che viene utilizzato proprio in questa direzione, per sveltire procedure che in termini ordinari non si riescono in qualche maniera ad affrontare. Ma è la sostanza, quindi la capacità, sì di fronte alla situazione in cui viviamo, di poter essere pronti. Allora le faccio una serie di domande, Ministro, perché lei aveva risposto in quest'Aula che il piano c'era, eravate pronti ed era tutto a posto. Allora, per quale motivo, se è tutto a posto, nelle farmacie italiane non si trovano i vaccini anti-influenzali che dovrebbero servire proprio nella fase di adesso per cercare di, in qualche modo, dare copertura alla popolazione. Ma soprattutto, siamo sicuri che almeno le persone cosiddette a rischio, le persone più fragili, più deboli, avranno la possibilità di potersi vaccinare se lo richiedono? Cioè queste sono le domande a cui dovete rispondere, perché è evidente che chi ha delle patologie o le persone anziane, piuttosto che magari altre persone con altri tipi di problematiche, vadano in qualche maniera tutelate. Questa è una domanda a cui dovete assolutamente rispondere. Poi, per quale motivo abbiamo, io tra l'altro la invito, Ministro, a venire in aula non solo per parlare del Covid, ma magari anche per parlare di tanti altri temi, perché lei è Ministro della Sanità. Magari fate venire Conte qui a parlare del tema dell'emergenza e invece venga lei magari a parlare di tante altre questioni, perché abbiamo per esempio letto che c'è un rallentamento sulle altre patologie, ci sono 1,4 milioni di esami screening in meno e addirittura ci dicono che con diagnosi tardive il rischio è che aumenti la mortalità dei pazienti. Quindi questo è avvenuto nei primi cinque mesi del 2020, cioè ci sono tante altre patologie che vanno curate e gli ospedali sono in evidente sofferenza da quello che ci dicono a seguire tutto. Quindi non c'è solo il Covid, ci sono tantissime altre patologie che vanno. Stiamo lavorando per garantire che non ci siano liste d'attese infinite, che gli esami di screening si svolgano. Stiamo lavorando affinché gli ospedali possano riprendere anche un ordinario lavoro su tutte quelle che sono le altre patologie. Altra questione, avete potenziato la medicina di base? La nostra preoccupazione è che a fronte delle prime influenze che coinvolgeranno i bambini, sicuramente con l'arrivo del fine ottobre, primi di novembre, siamo sicuri che i genitori non correranno tutti al pronto soccorso per chiedere di fare immediatamente il tampone e verificare se si tratta di Covid o no? C'abbiamo questo sistema di medicina territoriale di cui si è tanto parlato che è stato potenziato, i medici di base sono pronti ad affrontare, andare a visitare i bambini direttamente nelle case, nelle famiglie, abbiamo sviluppato questo tipo di modalità, abbiamo fatto scorte, scorte, quindi che ci sono i magazzini pieni, per esempio, non so, dei farmaci, dei tamponi, dei reagenti, posso anche dei test rapidi, per esempio, che adesso dovrebbero aiutare in qualche modo a velocizzare l'attività di monitoraggio, delle mascherine, dei gel igienizzanti, naturalmente che abbiano la preventiva autorizzazione, naturalmente sanitaria, non come quelli che erano stati ordinati dal Presidente del Consiglio. Perché ci sono stati dei ritardi, per esempio, nei bandi annuali, nei bandi, chiedo scusa, per l'allestimento delle terapie intensive, ci risulta che ci siano ritardi che vanno in questa direzione. Poi ci tolga anche una curiosità, perché abbiamo notato anche alcune contraddizioni che sinceramente non riusciamo a comprendere. Per esempio, questa politica qua, non voglio entrare nel tema della partita di calcio, Juve-Napoli o quant'altro, il calcio, lasciamolo da parte, che come dice giustamente lei, è più importante la salute dei cittadini. Però su alcune misure che vengono prese, perché mille persone possono entrare negli stadi a prescindere dalla capienza degli stadi stessi? Cioè mille persone su uno stadio che ne tiene 10.000 e le stesse mille persone in uno stadio che ne tiene 80.000. Notiamo qualche contraddizione, vogliamo solo comprendere qual è la ragione, soprattutto poi perché ne entrano mille e stanno tutti in un settorino, anziché essere magari un pochettino più spasse nello stadio, che potrebbe in qualche modo, aumentando il distanziamento, garantire qualche elemento di sicurezza in più. Sono curiosità, non se la prenda, è un po' come le regole del distanziamento. Io apprezzo molto le mascherine, l'utilizzo delle mascherine, le regole del distanziamento, lavarsi le mani. Ma allora mi spieghi perché sugli aerei noi stiamo stipati come sardine quando viaggiamo. Lì il distanziamento non serve a niente. Capisco che le sardine in epoca di distanziamento abbiano un po' passate di moda. Chiedo scusa, ci può stare. E l'abbiamo notato tutti, però volevamo capire il perché. Perché magari si organizzano i rave party e nessuno va a controllare e arrivano migliaia e migliaia di persone senza mascherine, senza protezione e possono fare quello che vogliono. Perché abbiamo dei cittadini che ci segnalano che in alcuni luoghi di culto, non sto parlando delle chiese perché io frequento e vedo che c'è tutto il distanziamento con le sedie, tutto organizzato, le mascherine, tutto perfetto, ma che ci sono alcuni luoghi di culto dove assolutamente la mascherina non viene minimamente messa. Cosa succede? Che a seconda dell'appartenenza del culto c'è una sorta di immunità particolare di cui uno possa godere perché magari professa una religione piuttosto che un'altra. Se le regole devono essere uguali, devono essere uguali per tutte. Abbiamo notato invece un certo tipo di atteggiamento diverso, a seconda anche della tipologia della popolazione. Non si capisce il perché, ma se le regole devono valere per tutti, è giusto che siano così. Poi le chiediamo un'altra cosa, sempre sul tema dei dati. Lei ha citato dei numeri, crescono i positivi da 12.000 a 60.000 rispetto a quest'estate, quindi giustissimo il fatto di non abbassare la guardia, giusto e corretto l'utilizzo della mascherina, lo ribadiamo, però non sarebbe anche un pochettino più giusto e corretto dare una visione dei dati più trasparente. Io l'avevamo già chiesto l'ultima volta, cioè nel senso, ministro, cerchiamo di capirci. Ci sono dei giornali che hanno titolato, dati mai così alti come al mese d'aprile, ricordando il periodo del lockdown. Però possiamo, una volta per tutte, quando fate il comunicato, che poi va su tutte le televisioni, ma fate capire anche ai media, perché in questo momento qui la comunicazione è fondamentale su tutto, da utilizzare le mascherine anche a tutto il contesto che ci sta intorno, perché dire e dare dei messaggi che terrorizzano la popolazione, a nostro giudizio, non è corretto. Allora, quanti tamponi abbiamo fatto ad aprile noi giornalmente? Quanti ne facevamo giornalmente ad aprile noi di tamponi? Quanti ne facciamo oggi? Qual è la percentuale di positivi che trovavamo su un certo numero di tamponi fatti ad aprile e quant'è la percentuale di positivi sui tamponi fatti in questi giorni? Questo potrebbe essere una cosa. La questione poi del rapporto asintomatici-sintomatici. In tutte le trasmissioni sento, uno dice che è il 45%, uno dice che è il 70%, uno che dice che è l'80%. Possibile che non ci sia un dato scientifico che ci dica, sulla base dei tamponi che vengono eseguiti, quanti sono esattamente gli asintomatici? Io non lo conosco questo dato, ma gli italiani hanno il diritto di conoscerlo. Poi, qual è il rapporto anche, dico, sulla questione anche legata, chiedo scusa, sul fatto delle persone decedute? Anche qui, perché si dice il numero dei morti giornaliero, ma vogliamo anche sapere qualcosina in più sulle persone che sono decedute, se avevano delle patologie particolari, se invece erano giovani che stavano bene, oppure persone anche, diciamo così, che non avevano nessun tipo di problema particolare, perché anche questo diventa un messaggio importante che dobbiamo porre. Visto che sto per chiudere, a proposito di numeri, sono andato a cercare su internet, perché qualcuno mi aveva detto in quest'aula, ah ma basta andare sul sito del Ministero della Saute, tanti auguri, sono andato su internet a cercare. Ho notato che il 19 marzo, su 47.798, sono risultati positivi 9.361, circa il 19,5% dei casi, quindi 47.000 tamponi, 9.000 positivi. Il 16 aprile, quindi un po' di due settimane dopo, eravamo sempre in epoca di lockdown, su 60.000 tamponi sono risultati positivi il 6,2%, ed era già un bel periodo che eravamo tutti fermi in lockdown. Il 3 di ottobre, quindi qualche giorno fa, su 118.000 tamponi eseguiti, solo 2.884 sono risultati positivi, che sono il 2,4%. Allora, se noi andiamo a vedere queste proporzioni, per fortuna, per fortuna, per fortuna il 2,4%, per fortuna, sia chiaro. Volevo solo dire che il 2,4% rapportato al 19,5% non ci può far pensare che oggi come oggi siamo in una situazione di emergenza tale, per cui sembra che siamo ancora in un periodo per cui dobbiamo chiudere le attività o quant'altro. E' questo il ragionamento che volevo fare. Devo invitarla a concludere, Presidente. Chiudo, chiudo, chiudo. Chiudo sul messaggio, chiudo sul messaggio che è importante, perché se continuiamo, perdonatemi, è giusto essere prudenti, è giusto essere prudenti, ma è anche giusto avere buon senso, perché se continuiamo con questi messaggi che terrorizzano la popolazione, fra poco, quando cominceranno le prime influenze, la gente per paura starà a casa, non ci sarà un lockdown dichiarato, ma di fatto sarà così, tutti avranno paura e staranno a casa. Quindi giusto, prudenza, chiudo, procede, Presidente. Il rischio zero intanto non esiste, diciamolo una volta per tutte alle persone, bisogna usare prudenza, mascherine, distanziamento, lavarsi le mani, proteggiamo gli anziani e le persone che hanno naturalmente particolari patologie, ma diciamo anche che siamo in grado oggi magari di curare le persone che eventualmente si vogliono ammalare. C'è bisogno non solo di spaventare la gente, Ministro, è un consiglio, c'è bisogno anche di rassicurare la popolazione, perché l'elemento psicologico non è da poco in una situazione come questa. Grazie. Grazie.